Un incidente nel pomeriggio di lunedì 24 febbraio intorno alle 15 in via Fratelli Berra ad Ozzegna. Una Fiat Panda condotta da un 77enne di San Giorgio Canavese è uscita di strada finendo nel fosso che costeggia la carreggiata, contropassaggio in cemento del campo e adeggiata su un fianco. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza di base della Croce Rossa di Rivarolo Canavese, l'elicottero del 118, i vigili del fuoco di Ivrea e la polizia locale e i carabinieri. L'uomo, estratto dalla vettura, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Quornier. La dinamica è a valle dei carabinieri. Era meglio, né? L'uomo, estratto dalla vettura, è stata trasportata da un'ospedale di Quornier.